buongiorno io sono laura calosso ringrazio l'assessore alla cultura istruzione educazione del comune di sondrio marcella fratta che ha pensato di invitarmi a parlare del mio libro e di una tematica che sicuramente al mondo della scuola e comunque al mondo in generale potrebbe essere di grande interesse io dovevo essere a sondrio di persona a marzo purtroppo non sto neanche a dirvi come mai invece sono qui e spero comunque con questo incontro virtuale di rispondere alle vostre domande che ho appunto richiesto per poter essere più efficace possibile in questo mio intervento allora il mio libro si intitola due fiocchi di neve uguali ed è stato pubblicato da sam società editrice milanese lo scorso anno ve lo presento anche nella versione spagnola che è uscita in spagna a novembre per edizione bec gruppo penguin random house allora che cosa dice che cosa racconta questo mio libro racconta la storia di ragazzi ritirati ragazzi che sono chiusi in casa e che non escono per giorni per mesi per anni e talvolta anche per tutta la vita questo forse quello che stiamo attraversando è il periodo migliore per parlare di questo tema perché mai come oggi voi potete capire il peso che che ha il fatto di rimanere chiusi in casa cioè di non uscire fuori di non avere contatti di aver perso completamente le relazioni e quindi forse mai come oggi potete rendervi conto di quanto è importante la vita sociale la vita di relazione è chiaro che voi in questo momento state soffrendo una mancanza vi manca la vostra vita anche di routine la vita che avete magari detestato quella che probabilmente vi sembrava insopportabile adesso vi sembra il paradiso se paragonato appunto a questa reclusione quindi questi ragazzi fanno invece una scelta assolutamente come posso dire in controtendenza con quella che noi intendiamo come vita paradisiaca cioè fanno la scelta di scappare dal mondo di fuggire di rinchiudersi e di stare completamente al di fuori di quelle che sono le relazioni sociali che sono esattamente il motivo della loro sofferenza per farvi capire meglio come qual è stato il mio percorso e come io ho iniziato a occuparmi di questo tema e perché racconto sempre un aneddoto che è esattamente la verità e poi è anche la fonte dalla quale è nato questo questo mio libro io anni fa ho incontrato un compagno di scuola frequentevamo insieme l'università di torino lui è diventato un manager molto importante non ci vedevamo da tempo perché abitiamo in città diverse e a un certo punto in questo nostro discorso gli ho chiesto di suo figlio che io conoscevo perché suo figlio al tempo aveva nove anni quando io l'ho conosciuto quindi considerate che oggi ne ha praticamente 20 era il classico bambino adorabile un bambino intelligente simpatico gentile cioè a nove anni era assolutamente promettente ti dava l'impressione di essere un ragazzo con una marcia in più quindi chiedo a questo mio amico di suo figlio perché volevo capire tra l'altro questo ragazzo era molto bravo a basket suo padre è molto alto quindi giocava basket ai tempi dell'università e tra l'altro anche a livello agonistico e il figlio aveva un po seguito le orme del padre e quindi io ho fatto una domanda banale gli ho detto chissà quanto sarà alto tuo figlio oggi considerato che già a nove anni era molto alto poi immagino che facendo sport a livello agonistico insomma il suo fisico sia notevolmente cambiato da quando l'ho visto l'ultima volta e vedo che lui ha una battuta d'arresto ce lo vedo in particolare difficoltà perché sto toccando senza saperlo il tasto dolente lui inizia a girare intorno a questa mia domanda e poi a un certo punto mi dice io non lo so quanto è alto mio figlio perché è da un anno e mezzo che non lo vedo è un anno e mezzo che io non so come è fatto insomma e allora lì ho capito che c'era qualche cosa di estremamente strano però la cosa che mi sembrava più strana di tutte era il fatto che lui non era assolutamente consapevole di quello che stava capitando a casa sua inteso che di questo figlio aveva fatto molte su questo figlio molte supposizioni ma non potendolo portare da uno psicologo non potendolo portare da nessuna parte non era riuscito a capire quello che stava succedendo in pratica mi dice io non vedo mio figlio da un anno e mezzo però mio figlio è in casa semplicemente si è recluso nella sua camera dopo un negoziato con sua madre che è stato anche molto complesso da portare avanti siamo riusciti ad ottenere che lui appunto si alimentasse creando una sorta di varco nella parte bassa della porta che poi lui teneva coperta da questi dizionari di greco di latino perché quando si è ritirato era intorno ai 15 16 anni ed era uno studente promettente del liceo classico quindi avevano creato questa sorta di feritoia da cui passava il cibo e da cui a un certo punto questo ragazzo aveva accettato anche di mettere gli indumenti sporchi in modo che la madre potesse lavarli e dargli quelli puliti poi questo mio amico ha iniziato a raccontarmi la sua disperazione legata alla casa ristrutturata perché avevano creato questa zona notte che è quella che io racconto proprio in due fiocchi di nevo uguali questo mio libro e loro avevano creato questa casa con un'area notte dove la camera da letto dei genitori aveva un bagno ma anche quella del figlio aveva un bagno quindi questo ragazzo non aveva nessuna necessità di muoversi per la casa come succede ai ragazzi che i comori quando i genitori non c'erano quindi lui era diciamo completamente autonomo nella sua reclusione perché un ragazzo promettente mi sono chiesta io ed è anche questa la domanda a cui voglio rispondere perché è una delle vostre domande perché un ragazzo promettente decide a un certo punto di chiudersi nella sua stanza e di non avere più rapporti con il mondo perché fa una scelta di questo tipo questa è la domanda delle domande quella che mi sono posta io ed è quella che si è posto anche il padre di questo ragazzo cercando senza poter portare il figlio anche con psicologi di capire quello che stava succedendo i kikomori non è un fenomeno nuovo però è un fenomeno relativamente nuovo in italia questo che cosa vuol dire che se non si ha la fortuna di incrociare professionisti che conoscono bene perché hanno incrociato questo tipo di fenomeno hanno conosciuto ragazzi con questo tipo di problema è difficile delle volte che questo venga visto come il problema e la motivazione molto spesso un comportamento del genere potrebbe essere scambiato con la dipendenza da internet quindi si può fare un ragionamento molto semplice questo ragazzo si è chiuso perché nella sua stanza trova la comodità della tecnologia che gli permette di rimanere connesso con il mondo gli permette anche di usare videogiochi di usare la rete e quindi si fa questa come posso dire equazione chiusura i kikomori dipendenza da internet oppure un altro errore tipico che si commette è quello di equiparare l'ikikomori a una forma di depressione ora voi sapete perché ve l'ho detto all'inizio quanto è difficile stare reclusi quindi questi ragazzi se all'inizio non hanno nessun problema dal punto di vista parlo mentale no perché sono ragazzi che a volte hanno un curriculum scolastico assolutamente eccellente sono persone che sono perfettamente in grado di avere una carriera o comunque di andare incontro alle aspettative che ha la famiglia la società la scuola su di loro quindi dice questi ragazzi che hanno tutta questa capacità e che sono in grado che sarebbero in grado a un certo punto si bloccano diventano come una sorta di automobile così la descrive la descritta matteo lancini che è il presidente di minotauro che un istituto di milano che studia da tempo il disagio giovanile in particolare anche i kikomori dicevo sono appunto come un'auto che ha il freno a mano tirato quindi come se voi avesse un'auto sportiva di grande cilindrata che però con il freno a mano tirato non va da nessuna parte ecco vi dicevo questi ragazzi sono particolari proprio per questo perché non si ritirano per una condizione di inferiorità ma per una percezione di potenziale inferiorità che cosa voglio dire voglio dire che i kikomori è essenzialmente una forma di disagio che non è dipendenza da internet non è malattia mentale vi dicevo prima che è evidente che stando chiusi poi per molto tempo il disagio mentale se non c'è prima subentra perché la reclusione implica una costrizione e anche se è tra virgolette una scelta perché in realtà quella ritiro è una pulsione non è una decisione che viene presa a tavolino è qualche cosa di come posso dire irrefrenabile tu stai meglio se non sei con gli altri se non sei inserito nel tuo mondo nella tua scuola con i tuoi compagni di scuola insomma stai bene se la tua condizione è una condizione fuori dalla realtà mettiamola così ecco quindi dicevo se all'inizio c'è un problema di disturbo mentale è evidente che poi stando chiusi mesi anni e in alcuni casi appunto tutta la vita questa cosa può diventare poi un problema che ha delle ripercussioni anche che potrebbero essere analizzate da psichiatri insomma da persone che poi si occupano di problematiche molto come posso dire incancrenite però all'inizio i kikomori è se conosciuto una forma probabilmente recuperabile quindi perché io ne parlo e perché ho accettato volentieri questo invito di marcella perché sapere che cos'è significa riuscire immediatamente e parlo in questo caso con le famiglie parlo con gli amici e parlo con i docenti significa riuscire ad intercettare molto velocemente qualche cosa che assomiglia a un'ombra ma è indecifrabile diventa estremamente difficile non sapendo dell'esistenza di kikomori riuscire a aiutare questi ragazzi perché non vengono incasellati nella giusta come posso dire dimensione che corrisponde al loro problema quindi se vengono curati tra virgolette per una dipendenza da internet non si sortisce alcun effetto positivo idem se vengono sottoposti a una terapia con antidepressivi la stessa cosa se vengono come dire analizzati come appunto ragazzi affetti da forme di autismo non è autismo quindi tornando a che cos'è perché si può soltanto a questo punto andare per esclusione cercare poi di tracciare un quadro tra quello che rimane è come vi dicevo la paura di cadere c'è stato anche un documentario molto bello che è stato messo in onda da rai 3 che si intitolava proprio la paura di fallire di cadere no quindi nella caduta il fallimento un po come se fosse una sorta di analogia perché questi ragazzi che potrebbero fare sono terrorizzati da non essere sufficientemente bravi da non riuscire a reggere la competizione sfrenata che è tipica della nostra società adesso vedremo che cosa succederà dopo coronavirus cioè se la nostra società continuerà a mantenere le stesse dinamiche di prima o se ci sarà un processo che porterà a un ravvedimento collettivo questo noi non lo sappiamo al momento ma è certo che la società che abbiamo lasciato febbraio era una società iper competitiva in italia c'è un'associazione che si chiama ichi comori italia ed è presieduta da marco crepaldi che è il fondatore e questa associazione sulla rete ha un sito a una piattaforma anche su youtube anche su instagram insomma pubblica continuamente contenuti che sono indirizzati a ichi comori alle loro famiglie e spiegano proprio questo questi contenuti spiegano che è la pressione estrema che fa sì che questo ingranaggio a un certo punto si spezzi per farvi capire che cosa intendo vi racconto la mia esperienza personale quella che ho fatto nell'ultimo liceo dove sono stata a milano a febbraio sono stata invitata in uno dei licei più importanti di milano un liceo classico e alla fine del mio intervento sono stata avvicinata da quattro ragazzi che mi hanno praticamente parlato in disparte e in particolare mi ha colpito moltissimo una ragazza che mi ha raccontato di aver studiato perché appunto è figlia di manager italiani che erano all'estero quando lei è nata quindi lei ha fatto fino alle medie la scuola in una lingua poi è venuta in italia e ha continuato in italiano avendo la media del 9 quindi una media altissima poi faceva due sport a livello agonistico e poi ha iniziato una carriera artistica dove la capacità tecnica prevedeva un tempo lunghissimo in esercitazioni insomma quindi un'attività non da fannulloni perché un altro stereotipo che grava sui ragazzi che comori è proprio quello di essere dei fannulloni cioè si ritirano perché non hanno voglia di fare niente ecco vi raccontavo di questa ragazza che a un certo punto non riusciva più a tenere il passo era terrorizzata da non essere in grado di rispondere a quelle che probabilmente erano le aspettative della sua famiglia dei suoi amici o comunque che lei sentiva intorno a sé stando appunto in ambiente competitivo quindi un liceo classico rinomato un contesto artistico di grande rilievo addirittura internazionale per questo che questa storia mi ha particolarmente colpito e lei ha iniziato a piano piano perdere giorni di scuola perché uno dei sintomi di kikomori è proprio questo a un certo punto questi ragazzi non riescono più a varcare la soglia della scuola quindi iniziano a fare assenze cercano poi di raccontare queste assenze coprendo le con problemi di salute che a volte subentrano davvero perché hanno uno stress talmente forte che poi alla fine i problemi fisici potrebbero realmente manifestarsi quindi vi dicevo questa ragazza e poi un altro ragazzo che mi diceva io non riesco a stare con i miei amici perché ho degli interessi diversi tra l'altro lui era inserito in una squadra agonistica di nuoto e aveva interessi per la storia quindi nel tempo libero leggeva libri di storia e mi diceva io non riesco con i miei compagni di scuola ad avere un rapporto una relazione riesco con i miei colleghi a nuoto perché tutto sommato uno sport molto individuale no quindi tu fai tutte queste vasche e sei comunque con te stesso quindi poi hai degli spazi che condividi con gli altri ma sono comunque non la stessa cosa rispetto a stare in un'aula scolastica per tante ore ecco questi sono due casi che vi possono far capire come ragazzi con la media del 9 perché entrambi avevano la media del 9 a un certo punto hanno un cedimento e non riescono a spiegarselo il fatto di andare nelle scuole e di dire guardate che questo vostro disagio ha un nome un cognome non significa mettere un'etichetta perché c'è qualcuno che dice in questo modo tu bolli una persona non gli metti un marchio in realtà semplicemente se io riesco a capire che cosa quella persona cioè che cosa sta attraversando io so spiegargli che probabilmente il suo problema non è soltanto suo è un problema che riguarda anche altri ed è un problema che è legato a un contesto è proprio una questione che ha a fare con la società cioè quindi non è una scelta che uno fa e avrebbe fatto negli anni 50 è tipicamente una scelta che uno fa oggi e torno a dire più che scelta è una pulsione perché proprio oggi nell'epoca dei social nell'epoca di questo confronto continuo con gli altri in questa aspirazione al successo che abbiamo anche quando non ce ne rendiamo conto nel senso che questa pressione a raggiungere ce l'ha chiunque qualunque lavoro faccia qualunque contesto comunque abbia occasione di frequentare c'è sempre questa spinta no a ottenere qualcosa a raggiungere poco o tanto che sia ecco quindi questa cosa è contemporanea non poteva succedere negli anni 40 forse ad esempio in giappone i fenomeni di kikomori principalmente sono iniziati diciamo intorno agli anni 80 ci sono stati molti episodi kikomori ci sono oggi in giappone circa più di un milione di persone recluse quindi la metà un po' più della metà sono giovani che si sono reclusi recentemente e un'altra parte sono invece gli kikomori che non sono mai usciti con un problema a carico anche del servizio assistenziale perché a volte succede che tu hai il ritirato che ha 50 anni e i genitori che erano più di 80 che non sono più autosufficienti e quindi se nessuno banalmente esce per andare a fare la spesa si crea un problema di assistenza sociale che va a gravare enormemente sul spese che lo stato deve affrontare ed è forse questo il motivo per cui a un certo punto il governo giapponese che per anni ha taciuto e ha minimizzato perché la società giapponese è una società molto rigida e quindi uscire dai binari è una colpa cosa che in italia è meno forse a livello di come posso dire nessuno ti direbbe tu sei colpevole di questo però poi indirettamente sia i ragazzi che mori che le famiglie sono visti comunque come al di fuori della norma e in questo essere al di fuori viene comunque loro attribuita una responsabilità quindi tornando al giappone tra l'altro che i comori è un termine giapponese che significa stare in disparte e viene usato non per snobismo ma proprio perché gli studi che sono stati fatti sono stati fatti utilizzando questa terminologia che gli studiosi giapponesi hanno iniziato a utilizzare c'è un'italiana che si chiama Carla Ricci che è un'antropologa che lavora all'università di Tokyo e ha fatto degli studi importanti sui kikomori in giappone e poi ha iniziato a occuparsi anche del fenomeno in italia e ha iniziato a individuare questa ombra scura che grava sulla nostra società e che noi subiamo ma di cui non siamo consapevoli e che invece i ragazzi di comori sentono come una grande oppressione e che è forse quello che li schiacciano che poi alla fine li annulla anche quando loro vorrebbero essere come gli altri perché poi c'è questo risvolto da tenere in considerazione il ritiro avviene normalmente alla fine delle medie inizio delle scuole superiori quando c'è proprio il confronto e l'ingresso diciamo così in società dove tutti i confronti con altri e a un certo punto tu hai di te anche una sorta di ideale no cioè tu hai magari una famiglia che ha investito su di te proprio perché sei intelligente promettente talvolta sono ragazzi anche fisicamente prestanti come vi dicevo quindi tu hai di te un'idea alta e a un certo punto incontri persone che valutano il successo su altri con altri criteri non è importante il fatto che tu sia bravo a scuola è importante che tu spopoli sui social quindi che cosa succede se tu sei uno che timido che non è tanto fatto per esporsi a un certo punto in una società narcisistica che ti chiede un'esposizione continua tu inizi a soffrire inizi a renderti conto che il tuo disagio è un disagio che non finirà mai perché sono proprio le tue caratteristiche che ti rendono inabile a stare in questa società che è una società che ti dà questo comando questo imperativo continuo di mostrarti e far sapere agli altri quello che tu sai fare quanto vali economicamente parlando voi avrete sentito spesso alla storia di ragazzi che sono su instagram che hanno milioni di follower che ce li hanno perché sono ovviamente bravi a condurre magari delle chiamiamo le trasmissioni no se volessimo usare un linguaggio televisivo comunque a intrattenere e quindi diventano anche molto importanti poi per le aziende perché diventano un veicolo di pubblicità assolutamente efficace ecco quindi magari questi ragazzi facendo delle cose più o meno intelligenti ottengono un successo che un ragazzo con la media del 9 aliceo classico probabilmente non ha e quindi questo senso come posso dire di sé molto alto tra l'altro i ragazzi che comori hanno anche un'etica quindi sono molto critici nei confronti della società sono molto attenti a tematiche che sfuggono spesso agli adulti quindi ad esempio la tematica dell'ambiente di come viene l'ambiente aggredito in modo continuativo ecco per i ragazzi che comori questa è una grande sofferenza loro vedono come una cosa veramente tragica questa ipocrisia del parlare dell'ambiente dei cambiamenti climatici ma poi nella pratica di non fare assolutamente niente per incidere per invertire la rotta ecco quindi vi dicevo c'è questo mix di competenze di capacità e di terrore di non essere all'altezza della situazione quindi sempre per rispondere a domande che voi avete formulato il modo per distinguerli non è di andare a cercare chi vive in famiglie degradate chi vive in ambienti di sottocultura chiamiamole così vanno cercati tra le famiglie più tra virgolette normali cioè tra quelli che fanno una vita normale spesso ci sono casi di ragazzi inseriti anche in famiglie dell'alta società ad esempio il caso che vi ho raccontato di questo mio amico è figlio di un manager estremamente importante e anche famoso quindi io nel libro ho usato tanti episodi tante cose che vengono da quella storia ovviamente con autorizzazione però ho camuffato la storia al punto che è impossibile rendere riconoscibile questa persona perché sarebbe assolutamente una violazione della privacy che non mi sarei mai permessa di fare tra l'altro io ho avuto la fortuna di capire che cosa stava succedendo in quella casa semplicemente perché dopo questo incontro con questo mio amico ho parlato di questo di questo disagio che mi era stato raccontato con Luigi Zoya che è un psicanalista di fama internazionale che una sera è intervenuto a una delle serate sem che il mio editore il giovedì dico faceva perché purtroppo covid ci ha impedito di continuare su questa via però insomma il giovedì sera la casa editrice era aperta a incontri e quindi c'erano persone di ambienti vari della cultura e parlando con lui gli ho proprio raccontato quello che avevo sentito ed è stato lui a dirmi guarda forse è uno dei casi di Kikomori perché non è più soltanto un fenomeno giapponese quindi non è soltanto più un'espressione di una società rigida dove se tu non riesci a ricoprire una casella a occupare un posto hai questo bollo sociale è un fenomeno italiano in Italia il numero dei ragazzi Kikomori supera i centomila in realtà io sono andata in molte scuole e credetemi in ogni scuola dove io sono andata c'erano almeno due casi di ragazzi che si erano ritirati nel corso del tempo e casi potenziali diciamo così cioè di persone che mi avvicinavano e mi facevano dei discorsi o mi scrivevano via mail successivamente soprattutto quello perché a volte c'è anche questa difficoltà di reggere il rapporto one to one quindi la relazione diretta e mi raccontavano di fatti che mi facevano pensare che fossero molto molto vicini a questo problema e spiegare loro che era una condizione non dico normale ma una condizione diffusa tra i ragazzi già alleggeriva la loro condizione perché non hanno a 15 anni la capacità di capire che non sono appunto soli nel mondo con quel disagio ma sono parte di una grande famiglia di ritirati sociali che soffrono perché poi questa condizione non è una condizione di privilegio nelle stanze dei ragazzi richi komori c'è una reale disperazione ed è quella che io racconto nel mio libro io nel mio libro racconto la storia di un ragazzo ritirato attraverso gli occhi della sua compagna di scuola che ha un problema apparentemente opposto nel senso che mentre lui appartiene a una famiglia di ceto sociale alto lei ha il padre che perde il lavoro e lei è una ragazza molto promettente che si diploma con il massimo dei voti con la lode eccetera eccetera vorrebbe fare la ricercatrice in neuroscienze però si rende conto che il padre ha perso il lavoro e quindi per lei è impossibile continuare nella direzione che vorrebbe e questo perché in italia c'è un problema enorme di ascensore sociale l'italia è un paese dove l'ascensore sociale è bloccato da anni e ciò significa che se io sono un ragazzo promettente non è con il merito che io arriverò da qualche parte perché verosimilmente se non ho la famiglia in grado di mantenermi gli studi e comunque di pagarmi una casa o un viaggio all'estero insomma io non sono nella condizione di sviluppare il mio talento ecco quindi io ho intitolato il mio romanzo due fiocchi dei neve uguali perché il problema di questi due ragazzi è sostanzialmente opposto però in realtà la radice è la medesima l'impossibilità di vedere il proprio posto nel mondo e in esergo al libro c'è proprio questa frase che è stata diciamo pubblicata scritta da un anonimo sul muro di un liceo di bassano del grappa io quando l'ho saputo perché io stavo chiudendo le bozze del libro nell'autunno del 2018 e a settembre è successa questa cosa qualcuno sul muro di questo liceo ha scritto non c'è un posto dove io possa stare no e l'ha scritta in inglese e il preside ha deciso di lasciare questa scritta come emblema di una difficoltà vi dicevo che quando io vado nelle scuole e vengo presentata agli studenti la preoccupazione dei docenti o dei dirigenti scolastici è sempre quella di dirmi sono tanti perché io spesso faccio incontri dove ci sono anche 250 ragazzi cioè quindi sono magari in un'aula magna gigantesca mi è successo ad esempio a breccia dove erano un'infinità erano più di 250 e tra l'altro mi sembra un altro mondo perché pensando adesso al distanziamento sociale se penso che io appunto ero a breccia a gennaio con quei numeri veramente era l'inizio di gennaio quindi non dopo il 30 perché sarebbe stato impossibile veramente impossibile da pensare detto questo quando io vado appunto c'è questa preoccupazione mi dicono se per caso disturbano fanno rumore si mettono a guardare il telefono non ci faccia caso perché succede regolarmente quando inizia a parlare di ritiro sociale i comori di questo tipo di disagio tu hai un'attenzione che è impressionante perché stai parlando a persone che tutte in qualche modo sono limitrofe a questo tipo di problema magari c'è il bullo e non c'è l'ikikomori che ti ascolta no ma anche il bullo ha un suo disagio e spesso il bullo ha uno stesso problema una stessa paura di essere rifiutato di non avere successo abbastanza di non mostrarsi abbastanza io faccio sempre anche questo ragionamento i ragazzi siamo in un momento estremamente sfuggente perché chi è stato educato 30 40 anni fa è stato educato in un modo abbastanza semplice o perlomeno semplice per i genitori no tu dicevi a tuo figlio se vuoi emergere tu devi studiare tu devi faticare tu devi lavorare e tu però non devi per essere una brava persona uscire non devi drogarti non devi far tardi non devi andare in discoteca era tutta un'educazione al non ed era molto simile al complesso di edipo quello della colpa l'effetto che si otteneva quindi un ragazzo che una ragazza soprattutto è quello che non vi ho detto che ikikomori parrebbe legato più ai maschi che alle femmine in realtà io ho trovato situazioni che mi sono state descritte dagli insegnanti eccetera dove in realtà le femmine sono e come presenti però prendiamo per buono il fatto che sono più i maschi mentre invece le femmine vanno più nella direzione dell'anoressia quando hanno problemi di questo tipo ecco dicevo poi ho aperto una parentesi gigantesca e quindi faccio fatica è un peccato non avervi qui con me perché vi chiederei anche un aiuto ogni tanto quando apro parentesi ho bisogno del pubblico per riuscire a recuperare il filo vi dicevo no dell'educazione questa rigidità faceva sì che tu se stavi chiuso nella tua stanza tutto sommato ti sentivi a posto con la coscienza perché eri lì stavi studiando stavi facendo il tuo dovere e non stavi andando contro le regole no parlo di ragazzi che volessero essere come posso dire in linea con quello che era il dettato dei genitori oggi invece noi abbiamo una situazione completamente diversa è un po come io dico sempre essere sulla faglia di sant'andrea dove tu ti aspetti questo terremoto e non ti senti così sicuro così in una condizione stabile perché vale non più il complesso di edipo ma vale narciso quindi tu hai questa continua indicazione che ti viene data dalla società di mostrarti per cui se io devo educare un ragazzo e gli dico tu non devi fare non devi uscire io educo una persona che troverà sicuramente difficoltà infinite nella società ed è probabilmente questo che accade ai genitori di ragazzi che i comori perché magari spingono sull'acceleratore delle capacità del merito e poi questi ragazzi trovano assolutamente che le promesse che gli sono state fatte di raggiungimento di un qualche successo per una via che è quella dell'impegno del merito del rispetto degli altri dell'etica dell'educazione ecco invece questo ti espone addirittura al bullismo ci sono casi di ragazzi che si sono ritirati perché la spinta finale è stata proprio quella dell'essere presi di mira perché se tu non sei comunque così bravo a mostrarti e quindi a seguire questo imperativo categorico del fammi vedere chi sei e quindi tu mi devi tutti i giorni postare foto di te in una condizione vincente insomma anche la musica da questo punto di vista da questa indicazione se voi sentite la musica rap trap il tema del denaro è un tema molto presente è quasi appunto il metro con cui si misurano le persone quindi ecco dicevo che questi ragazzi sono in questa condizione di instabilità perché sono su questa faglia dove l'educazione che hanno avuto che poteva andare benissimo fino a 30 anni fa 20 anni fa oggi li penalizza li penalizza perché non sono nella condizione di essere dei narcisi veri cioè magari hanno un senso alto di sé no e hanno però questa paura di dimostrarsi tant'è che kikomori è tutto sommato una cancellazione poi del corpo c'è proprio questo terrore di essere in mezzo agli altri e di sbagliare qualcosa quindi come mi muovo come gestisco il mio corpo quindi riassumendo io spero di aver appunto risposto a quelli che sono gli interrogativi soliti e anche i vostri i kikomori non è dipendenza da internet quindi internet resta l'ultimo elemento per essere collegati con la realtà nella prima fase di kikomori i ragazzi vanno ancora a vedere magari la chat della scuola magari hanno compagni che scrivono e loro non rispondono però sono ancora collegati al loro mondo se usano i videogiochi non li usano perché il videogioco diventa per loro interessante è un modo per evadere per non pensare quindi tutti crei un avatar qualcuno che vince al posto tuo e io nel mio libro racconto esattamente questo c'è come l'uso della tecnologia non è affatto dovuto a una passione per appunto la realtà virtuale è che la realtà virtuale ti permette di fare delle esperienze di rimanere collegato senza metterti a rischio più di tanto e il rischio più grosso per un ragazzo e kikomori è quello della delusione cioè di investire molto su persone in amici e di essere in qualche modo tradito no c'è questo terrore di essere pugnalato alle spalle in qualche maniera quindi non è dipendenza da internet c'è stato un caso che risale a un anno fa a torino non so se l'avete sentito ma un ragazzo si è gettato dal quinto piano perché la madre li ha tolto la tastiera dal computer io ho fatto corsi per i giornalisti con i kikomori italia con la loro collaborazione perché è fondamentale che i giornalisti capiscano quindi i miei colleghi si rendano conto che scrivere che un ragazzo si butta dal balcone perché era chiuso tutto il giorno a fare nulla nella sua stanza e quindi la madre li toglie quello come estremo capriccio insomma si butta dalla finestra ecco questo non è un buon servizio agli kikomori perché quel ragazzo in realtà ha visto in quel momento la cancellazione dell'ultimo pezzo di sé che lo collegava con la realtà e se tu togli questa possibilità togli anche la possibilità uno psicologo di entrare magari in contatto di essere d'aiuto in qualche modo perché tu togli se elimini il telefono elimini il computer ci sono genitori che nella prima fase sono talmente disperati che fanno esattamente questo dicono questa è la tecnologia e questo è il problema e quindi anziché andare a fondo anziché fare questo ragionamento che vi ho fatto fino ad ora fanno un'associazione molto semplice mio figlio se è conciato così è perché al computer al telefonino quindi io cancello tutto questo e mio figlio torna fuori felice con gli altri questo non succede mai anzi c'è un aggravarsi della condizione e si può arrivare all'estremo che vi dicevo di questo ragazzo di torino che non è l'unica condizione di disperazione nel caso di errore che il genitore in buona fede fa di questo tipo quindi non è dipendenza internet non è malattia mentale non è autismo è una pulsione a eliminare la propria presenza perché l'idea che al mondo di te non importa niente quindi se agli altri non importa niente di me perché io devo continuare a fare la mia battaglia perché devo continuare a stare con voi che non avete nessun interesse per la mia vita per quello che faccio per le mie scelte quindi c'è tutto sommato una estrema coerenza da questo punto di vista nel loro atteggiamento io credo sostanzialmente di avervi detto tutto sono assolutamente disponibile a rispondere a vostre domande se ce ne saranno anche per scritto via mail e ringrazio appunto marcella fratta per avermi dato questa occasione e immagino che con lei si potrà fare poi un percorso dal vero no cioè magari intervenire proprio nelle scuole di sondrio facendo degli incontri come era già previsto con la biblioteca proprio perché far conoscere questo tipo di problema significa dare uno strumento alle famiglie ai ragazzi alla scuola per capire il contemporaneo la società contemporanea è molto complessa noi siamo continuamente bombardati da messaggi che semplificano tutto e che fanno perdere in realtà lo spessore dei problemi no quindi risolvere il problema che comore si può si deve però usare la come posso dire la professionalità di chi lavora su questi temi quindi con psicologi che sono magari già preparati e torno a dire Minotauro Milano e Chico Mori Italia sono ad esempio due realtà che possono essere di grande importanza quindi se voi avete problemi di questo tipo vi interessa approfondire andate sulla rete cercate questi riferimenti e troverete delle notizie estremamente interessanti che vi potranno aiutare a evitare a questi ragazzi di entrare nella fase più profonda degli Chico Mori che è quella dalla quale poi è molto molto difficile riuscire a tornare indietro quindi io vi auguro cose belle per il presente per il futuro e auguro a me stessa la possibilità di tornare in mezzo ai ragazzi perché è sempre un'esperienza che io faccio con grande piacere perché è un'esperienza che mi fa imparare davvero tanto grazie a tutti voi grazie a Marcella Fratta alla biblioteca di Sondrio al comune e a tutti quelli che mi hanno ascoltato fino adesso grazie da Laura Calosso e da due fiocchi di neve uguali grazie